Vieni, andiamo, lo spettacolo sta per cominciare! Taran, taran, un po' di cipria qua, taran, taran, un tocco qui e là, taran, taran, il cuore batte già, taran, taran, com'è quel passo là, eccolo qua, taran, taran, ci siamo già! E allora andiamo, andiamo, andiamo a cominciare! Ma sì, ma sì, perché parlarne qui? Si sa, si sa, fa tutto come va, ma no, 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 non ve ne parlerò! Vabbè, vabbè, facciamo finta che io sono qua, l'orchestra c'è! Maestro fai, fai! Felicità, Natalia, cento sulla A! Bene, signore, questo momento mi ha fatto una granita sorpresa, infatti, mi ha voluto mancare l'appuntamento con il generoso Portico di Roma, la capitatrice del nostro spettacolo nazionale e mitica, Moira Orfei! Vi è piaciuto? Vi è piaciuto? Vi è piaciuto! Grazie, siete molto gentili! Non mi rimane di mandarlo il vostro palco e dito un applauso per voi! Alla, 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 alla!